Ciao a tutti, un saluto da Alessandro e Federico e oggi apriremo le prime bustine di BT12, la nostra prima box, ne apriremo solo 15, anzi 14, 15 si, metà box e quindi iniziamo, aspetta che apriamo. Allora 8 io e 7 te va bene? Perché 8 tu? Sai cos'è? Perché poi me ne rimangono 2 mei quando te le finite tenendo 1. No facciamo una sfida, visto che ci sono 15 bustine, la piossetta a testa e che è in svantaggio per rimontare. Sì ecco giusto, aspetta, prendiamo la testa. Ok Federico, apriamo. Allora, come... Fede non quella di destra. Quella di sinistra, partiamo sempre a sinistra. Quella fa tu be' l'alza, a pensare di aprire la sinistra. Aspetta allora. Lo siamo più in questo box, l'ultima lascio da parte perché è quella bomba. Secondo me aspetta, aspetta. Sì frate. Questa. Così a casa mi è. No l'ultima. Fede aspetta. Sì togliamo il box con la... La carta via. Ok bene. Posare il box Fede. No poi si lascia l'ultima perché è l'ultima volta fortuna. Perché come ha detto Mangaka 96 con YouTube che seguo. L'ultima volta fortuna, si diceva così. Questa è la... Ok. Ok. Ok, per più di 7.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso a te. Chi inizia? Io. Va bene. E' un periodo. Io, intanto ne inizio per una così dopo. Ok. Cioè, in realtà non le guardo le carte. Aspetta, ma qualche bomba. Così almeno sono già i vantaggi. Aspetta, aspetta. Non dico i nomi perché sennò la tua troppa. Ok. Lo stegone le volpe. Il drago. Sputta fuoco, che fa il giocorriere. Aspetta, le ferme. Il gattino, canino carino. E scusa, il 29 perché mi piace. Il drago, gattino carino. Hai detto appena che non dici i nomi. No, faccio finta. È bene così. Ok. Un grifon, il giullale e la fenice. Un A. Vi dico, è stata... Questa carta è di IPD6 che è stata instampata ora. E infatti ho visto una volta che c'è scritto... Allora, se non troviamo trip leve, leve valgono un punto. Ok, quindi è già un punto. Ricordiamolo, Fede. Le nostre carte lasciamole qua. Capito? Quella che ha caro zero, che ha due o meno, è due o due. Bene. Ok. Sì. Ok. Cos'è? Una streghè, una succuba che gioca a carte. Un lupado incapperato. Un'altra volta, un'altra volta. Una succuba che balla. Aspetta. Ma è la stessa, è la stessa. Sì. È la stessa. Un cagnolino carino, carino con una spada. Infine. E ho iniziato anche io con l'era. Anch'io. Uno zombie un po' scemo. E toccate la scelta di qua. Narukami? Sì. Per i mazzi di dungheri. Ma che è per terra le toglie? Ma fatele vedere, scusa, eh. Ok. Vediamo. Un ogni colno. Ah, questo è un ogni colno, sì. Una cameriera. È l'ultima, questa con la bomba. Una cameriera. Un liberatore. Un cannebello. E una tale. Cos'è? Il full span. I regolari. Per i mazzi di Amon. Sono già due punti, vai, Fede. Dei colse vuole. Un gigantec. Molto bello. Un cecchino. Chiaro viaggio a quattro, quindi non ci serve. Un trombettiere bellino. Un salvare, un po' scemo. Doppierre. Doppierre. Due punti per Fede. Cos'è? Una? La strega del cappero. No, Mario, guarda che non è la carta più scarsa di BitDoll. Lo dico serio. Quindi Fede ha già tre punti. Devo recuperare. In realtà lì... Quello serve o quello? No. No, noi siamo i vendicatori. Sì. Allora, sotto tutta... Questa va. Ok. Oddio! Il grado 2! Il grado 2. C'è il grado 1, il grado 3, il grado 2. Sì? Ok. La succupa ma molto più bella. Questo tipo che hanno i cortelli. Il funam... Il sostenitore... Ho trovato il sostenitore. Il sostenitore del funamolo. Ma non è che ti serve! Oh, è vero! No, è lo start. Che schifo. È lo start dei vendicatori che mi sono fatto anche il mazzo che non usiamo nemmeno. Qui sono tre punti. Ti serve? No. No! Ok, un vendicatore. Che non le serve. Un altro gigante. Un paiazzino. Una paiazzina. Un tipo che è evocare tigri. R. L. Il grado 2 che è... Questo è il quinto che troviamo. Ok. Quello è già quattro punti. Che schifo. Se trovate i preli sono già tre punti. Non so. Non ho trovato ancora una carta che vada bene. Neanche una qua. Dai, SP. La cura... La cura dei... Spina da gente. Un friendly. Non so se ci serve. Quello di prima. Un tipo bello bello. Niente. A3. E dai. Che figo. Ecco. È lo stesso. Se vuoi mettete... Sono già... Uno, due, tre, quattro. Quattro punti. Guardiamoci YouTube. Ok. C'è... Basta. Ma i modi. È bello. Ok. Un cecchino. La cecchina. Il grado 1 della c... Poi c'è il grado 1 della cn di Link Joker. Mi abbiamo già trovato anche lui. La pantera incapperata. Il critico deve salvarlo. Ci serve? E... Che cacchio. L. L ancora. Narukami. No. Narukamo. Narukamo. Quindi sono a due, tre, quattro e cinque punti. Ecco. Schifo. Se serve i punti in me. Ci trovate i papai di si molto. In realtà no. Il coerzista è il fatto. Lo stand del cappello che non usa nessuno. Guarda bella. L'ultima. Doppia. Cos'è? La pg. La pg della sentinela degli spina d'argento. Sono quattro punti. Vale tre. È vero. La sentinela dei... Tre, quattro, cinque, sei. Ah è vero. E sette. La sentinela di... Dei spina d'argento. Vale due. Dai, vale due. Vale due. Come ogni tipo di doppia L. Quindi sono a sei punti. Bello. Sono a sei punti. Ok. Un tipo... Vediamo. Poi un... Un annunciatore. La scimmietta. La cura di spina d'argento. Un castello demoniaco e... Si trovate per io, mammaazzo. Ecco. Cos'è? Guarda, Fede. La doppia... Fede, ritorna qua. Dai, dai. Che beve... Ma sono... Ci fa una pardia poi di quei Fede. Io devo aprire ora. Io devo aprire. Ma io faccio così. No. Ok. Aspetta. Perché tu hai aperto la bustecchia? Fede, non sveglia. Ho guardato solo il grado. Vediamo qua. Guarda. Uno. Ok. Ok. Via token. Supporto. Il supporto è il fonambolo. Ma un grado 2? Si. Il risveglio. Un altro risve... What? Una pescata che non ci serve. Grado 0. Bene. Che schifo. Grado 1. Grado 2. Grado 0. Che schifo. Ma sai quel grado 1 che ti serve? Perché non lo troviamo? Che abbia 22... Beh, 22 no. Ma una tipo R la troviamo. Non do... Fendly. Un fendly. Non ci serve. Un altro. Ma il diavolo basta. Ma dai, ma non gli serve... Lo stregone è volpe. È molla. Non ci serve. Doppia. Doppia. Ah, ti serve questa? Ah, finalmente. Questo mi serve per il vendicatore. Ok. Dai, ti metto qua. Non dimmi nessuno ti prende. Un box fallato questo, se no. Semmai qua c'è la tiple. Gli dammano crotele. Tizio. Tizio? Che tizio. Non stand. Bruno. Niente? Niente di pelle. Ma non c'è una. Come? Non dimmi che questo è uno di quei box fallati. Bello, ci abbiamo quattro... Cazzo del strel. Forza, le due ti a bustina. Se non ti prende. La tipa L, oddio. Allora, Ale, conto anche in vantaggio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto. Otto punti. Due, quattro, cinque, sei, sette. Sette. Otto. Otto. Si trovi... Si trova la tipa L si in vantaggio. Ho visto che è un grado 2, ma io capisco che è un R, guarda. Ok, vai. Posso anche fare così, non dire i nomi. Guarda, l'ultimo è un R, vuoi vedere? No, si. Galote. Ah, mi ricordo. L'ho vinto al previso. No, è punti te. Però manca l'ultimo pacchetto. È mio, perché sono in... Però una tripla perché voglio... Ma Ale, ma... E' il petto quello là. Eh, si, perché io sono in vantaggio. Ma non ho chiedere. Ale, ma guarda che è ancora... Ma non ho chiedere. Il viscidome. Il fennediz. Oh, finalmente. Però aspetta Ale, ma io c'è un po' di... Dungeri. Una tripla? Si. Ma che cos'è? Dei? Dei Narukami, Narukami. Dungeri. Ilimitata. Dungeri, ma non ci serve un cappero. Yeeeh. Fa, yeeeh. Abbranniamo anche l'altro. Va, condi anche l'altro. Ok. Abbiamoci tutto il box. Yeeeh. Sì, però, ma... Ok, che vuoi... L'ultimo è sempre da parte, Fede. Però aspetta, facciamolo in due parti, però. Salutate. Ah, no, non possiamo capire. L'ultimo è da parte del box che... Spera, ritrola anche a che altro ti prende. Aspetta, aspettate, non salutare ancora. Facciamo che questi punti valgono anche per il prossimo episodio. Sì. Ok. Sì, quindi questo è il punto. Quindi ho tre, perché altrimenti dovrai tre. Ho uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, unici punti. Tu? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, dieci punti. Dieci punti. E quindi... Ciao, al prossimo video. Ti saluto anche le bustine. Ciao. E quindi... Lasciate un mi piace. E quindi... Ciao, al prossimo video. Almeno venti. Ciao, al prossimo video. Ciao, al prossimo video.